Dal Ministero dell'Economia e Finanze arrivano 4 milioni di euro per la realizzazione di sette nuove sfogliere da Metauriglia fino a Torrette di Fano. A Pesaro intervento della Guardia Costiera e della Polizia Locale, rimossi gli ombrelloni e l'estraio dalla Spiaggia Libera. Presentato alla città il progetto di riqualificazione della Fontana della Fortuna di Fano, alla presenza degli amministratori locali e dei tecnici. Al via la storica fiera di San Bartolomeo, fino a sabato 26 agosto 200 espositori da Sassonia fino a Lido. A Palazzo Bracci Pagani di Fano prende il via dal 26 agosto fino al 10 settembre la mostra del concorso nazionale di vignette satiriche e umoristiche Carton City. Stasera dopo il telegiornale torna il programma di Fano TV in salute. Ospite il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'AST1 che parlerà della menopausa. Nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia Benvenuti. Sette nuove scogliere verranno realizzate a partire dal prossimo anno da Metauriglia fino a Torrette di Fano. L'intervento è reso possibile grazie al finanziamento di 4 milioni di euro arrivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro proveniente dal MEF, il Ministero delle Economie e delle Finanze, è stato aggiudicato alla città di Fano per la realizzazione di ulteriori scogliere nel tratto di Metauriglia e Torrette. Ad annunciare la notizia il vice sindaco Cristian Fanesi e il primo cittadino Massimo Seri durante un incontro con gli operatori. I lavori vedranno la realizzazione di 7 nuovi setti di scogliere che si andranno ad aggiungere ai precedenti 6 già conclusi per un totale di 13 blocchi sul mare. 4 milioni di euro per terminare le scogliere di Metauriglia. Questi 4 milioni di euro che abbiamo ottenuto appunto grazie alla progettualità del Comune di Fano si aggiungono agli altri 4 milioni di euro che abbiamo ottenuto recentemente dal PNRR per appunto fare le scogliere Metauriglia e così con 8 milioni di euro riusciremo a realizzare tutte le scogliere di Metauriglia fino all'hotel Playa dal lavoro che abbiamo iniziato qualche anno fa. È una notizia molto importante per gli operatori turistici, per i frequentatori di spiagge libere, per l'abitato di Metauriglia che così viene coperta interamente la propria spiaggia, siamo molto contenti, un ottimo lavoro fatto dal Comune di Fano in sinergia con gli operatori che parte da lontano. Alla fine Metauriglia avrà circa 2 chilometri e mezzo di scogliere nuove che copriranno appunto la propria costa. Ci abbiamo lavorato, abbiamo puntato a farlo, siamo riusciti oggi è una bella notizia per Fano e per Metauriglia in particolare. La data di partenza dei lavori è prevista per gennaio del prossimo anno con una durata di circa 12 mesi salvo condizioni meteoverse marine. Un altro grande risultato, il tempo è galantuomo, quando si lavora bene si è una strategia e i risultati arrivano. Se torniamo indietro al 2014 quando ci siamo insediati ricordo problematiche che riguardavano Sassogna, problematiche che riguardavano quest'area di erosione della costa e si è partiti con dei progetti importanti. Oggi possiamo dire che quei progetti hanno un risultato concreto e non solo parziale. Con questo ulteriore finanziamento il progetto nel suo insieme complessivo di tutta l'area di Metauriglia fino a Torrette viene risolto. L'opera dovrà essere realizzata entro la fine del 2024, quindi veramente possiamo dire che in questa città abbiamo dato una risposta importante, concreta, direi anche professionale con capacità anche di riperire risorse attraverso tanti strumenti. Ma a Monte c'è stata una strategia lungimirante che oggi vede raccogliere i propri frutti. Questa mattina il personale della Guardia Costiera e del Comando di Polizia Locale di Pesaro hanno proceduto alla rimozione di attrezzature balneari quali ombrelloni, sdraio e pali di supporto lasciate incustorite sulle spiagge libere. Inoltre, sottolinano le forze dell'ordine, si è potuto constatare come molti bagnanti, evidentemente al fine di prevenire il sequestro dell'ombrellone, conficcano nella sabbia tubi in materiale plastico ma anche metallico poco visibili comportando quindi un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Il materiale è stato sottoposto a sequestro cautelare amministrativo e depositato per la custodia nei locali del Centro Operativo Comunale di Pesa. Ed è stato presentato ieri sera il progetto di riqualificazione della Fontana della Fortuna di Fano alla presenza degli amministratori locali e dei tecnici, un progetto a cui si sta lavorando da circa un anno e mezzo. Cristiana Guerra. Bella, cattivante e custode della storia. È questo l'obiettivo principale dell'amministrazione comunale, riportare il luogo simbolo della città di Fano, ossia la Fontana della Fortuna, ad uno splendore unico, agli occhi dei fanesi e dei turisti, attraverso l'avvio di un progetto di riqualificazione. La sua presentazione è avvenuta mercoledì sera alla Corte Malatestiana, alla presenza del sindaco Seri, dell'assessore ai lavori pubblici Brunori, dell'assessore alla cultura Cora Fattori, oltre all'architetto Martufi e al tecnico Orsini, entrambi coinvolti nei lavori. Un intervento ambizioso e complesso per far riaffiorare l'identità, le radici della città, suddiviso in tre livelli, tra quello scultoreo, impiantistico e uno che riguarda la sezione limitrofa alla piazza, a cui l'amministrazione comunale sta lavorando da tempo, grazie ad un ottimo lavoro di squadra. Nella scopertura, adesso nello studio abbiamo rilevato che c'è un ulteriore gradino da scoprire, per cui riemergerà questo secondo gradino che oggi invece è coperto dalla pavimentazione. Tutti gli elementi verranno riconsolidati, parlo di elementi, parlo di leoni, parlo soprattutto anche di tutta una parte che è nel sottofondo idraulica, laddove abbiamo fatto invece uno studio molto importante proprio perché erano ammalorati, tant'è che i leoni probabilmente li dovremo spostare, andare a restaurare i laboratori proprio perché le condutture hanno necessità di essere ripristinate e nello stesso tempo verranno poi anche restituiti i colori originali dei leoni e della stessa idea. Spesa totale? 220 mila euro. I lavori chiaramente partiranno a ottobre, ottobre-novembre per essere pronti per la prossima primavera. Tanti sono stati gli interventi fatti sulla struttura ottagonale originaria dal 1500 ad oggi, l'ultimo risalente al 2003 da parte del Lions Club. Un lavoro non solo di recupero e riqualificazione ma anche di ricerca storica che ha portato a scoprire l'evoluzione della fontana nel tempo. È uno dei punti focali e più rappresentativi di Piazza 20 Settembre e quindi abbiamo raccontato una piazza sottosopra, quindi i misteri della piazza sotto, della piazza sopra, la sua storia e che caratteristiche ha, perché si chiama Piazza 20 Settembre. Un raccolto molto affascinante, oltretutto fatto da Marco Orsini che è un tecnico del SICCHI, il nostro sistema informatico comunale che sta facendo un lavoro molto grande fin dal 2006, aumentato nel 2015 nel reperimento di tutti i dati, nella digitalizzazione di tutti i dati relativi agli immobili e alle piazze pubbliche, cosa utilissima per poter gestire al meglio il patrimonio pubblico e privato e poter tutelare i cittadini. Ci sono serviti questa sera per raccontare la storia della piazza e potremo raccontare in futuro anche la storia di tutti i quartieri, quindi state attenti perché fra poco partiremo anche con un progetto di questo tipo. Il futuro della politica territoriale si gioca anche e soprattutto sulla gestione dei rifiuti. Questa mattina Francesco Baldarelli, ex parlamentare europeo Cesare Carnaroli, ex sindaco di Fano e Tiziano Busca, ex assessore del Comune di Pesaro, hanno lanciato una proposta. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Massimo Foghetti. Non hanno perso la passione per la politica, anche se ora dichiarano di non avere alcuna velleità elettorale. Sono Francesco Baldarelli, ex parlamentare europeo e già sindaco di Fano, Cesare Carnaroli, ex sindaco di Fano e Tiziano Busca, ex assessore del Comune di Pesaro. Questa mattina hanno convocato una conferenza stampa per esporre il loro pensiero sul futuro della gestione della raccolta dei rifiuti. In modo particolare rispetto alla rinuncia di realizzare una nuova discarica sul sito di riceci, oggetto di una vera e propria rivoluzione da parte della popolazione residente. I tre hanno concordato su quanto riportato in un documento da Francesco Baldarelli, secondo il quale le scelte operate dalla società Marche Multiservizi di Pesaro non solo si sono dimostrate sbagliate per la mancata trasparenza, ma anche per aver reiterato una cultura politica e amministrativa arrogante che farebbe riferimento a interessi territoriali ed economici ristretti. Criticati in modo particolare sono state le scelte che hanno permesso lo stoccaggio nelle discariche della nostra provincia di tonnellate di rifiuti provenienti da altre regioni. La gestione dei rifiuti deve rimanere saldamente in mano pubblica, è stato detto, in modo che le tariffe e il rispetto dell'ambiente siano decise dal pubblico. Qual è dunque la soluzione? Secondo Busca, Baldarelli e Carnaroli, bisognerebbe creare una società di scopo tra Aset e Marche Multiservizi che in sintonia con la regione valorizzi il polo di Monte Schiantello, una discarica che oggi sta causando non pochi problemi, soprattutto ai residenti di San Costanzo, vuoi per il cattivo odore, vuoi per il sospetto di emissioni nocive. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è che in questo momento così drammatico, diciamo, per la vicenda rifiuti, ma non solo, io ho accennato anche per il problema idrico dell'acqua, abbiamo la necessità che le istituzioni, le parti sociali, associazioni di categoria, sindacato e i comitati dei cittadini riescano a trovare un confronto sereno per trovare il bandolo di questa matassa estremamente difficile e delicato. Prima di qualsiasi scelta, e in modo particolare da parte di Marche Multiservizi, di ALD, di ASET, comuni di Pesaro e Fano, bisogna attivare questo tavolo e capire come si affronta la vicenda dei servizi locali tutti insieme, non solo dei rifiuti, ma anche dell'acqua e del gas. Vorrei dire, per quanto riguarda l'acqua, che nel 2028 scadranno le concessioni e quindi i comuni potrebbero riprendersi tutta la gestione dell'acqua e siccome è una risorsa vitale, noi pensiamo che in questo momento sia utile che i comuni riprendendosi la gestione diretta dell'acqua possano costruire, costituire un consorzio e gestirla anche direttamente. E a proposito del confronto con le popolazioni, questa mattina sono intervenuti anche diversi residenti di San Costanzo, i quali hanno così evidenziato non pochi problemi causati dalla discarica di Monte Schiantello nel loro comune. Ma questo che è comprensibile, si capisce, è proprio perché forse nel corso di questi anni non sono stati fatti gli investimenti necessari per eliminare tutta una serie di inconvenienti. Ed ora apriamo brevemente la pagina dedicata alle vostre segnalazioni dove un telespettatore ci segnala il manto stradale sconnesso e pericoloso di via Lago di Costanza-Ponte Sasso di Fano vicino al centro sociale. Mi sono ritrovato queste due buche pericolose, scrive il reporter, che interessano tutta la sede stradale. Spero che qualcuno nel giro di poco tempo rimedi visto la pericolosità e dove è stato posizionato anche un birillo stradale. Ed è partita dalle ore 10 di questa mattina la storica Fiera di San Bartolomeo, un evento importante per i commercianti e per i visitatori in cerca di buoni affari grazie ai 200 espositori dislocati da Sassogna fino al Lido. Vediamo. Al via da questa mattina a Fano la tradizionale Fiera di San Bartolomeo che si svolge come ogni anno a fine della stagione estiva. Per tre giorni e fino a sabato circa 200 ambulanti provenienti da ogni parte d'Italia su un percorso di due chilometri esporranno sui loro stand prodotti di ogni tipo, tra tradizioni e novità. Una manifestazione la cui origine risale allontano 1457, epoca in cui richiamava una gran folla di commercianti e che tuttora a distanza di secoli è di notevole importanza per il settore turistico ed economico della città. In questo stand le novità di quest'anno di che cosa si tratta? Allora è un panno per la pulizia a casa, quindi qualsiasi superficie che siano i vetri, gli specchi, l'acciaio, soprattutto quelle superfici che noi donne diciamo che sono una dannazione tra pelucchi e aloni. A due lati, la parte bianca è oltrafibra che serve proprio per sgrassare la superficie e soprattutto quando non vogliamo usare i detersivi, quindi il solo utilizzo dell'acqua ci permetterà di sgrassare la superficie con la parte bianca. La parte colorata invece serve per asciugare, nonostante un panno bagnato con acqua va ad asciugare perfettamente qualsiasi superficie senza lasciare né pelucchi né aloni, quindi possiamo usarlo in maniera naturale perché ovviamente non utilizzando alcun detersivo in maniera naturale abbiamo sgrassato e asciugato e lucidato qualsiasi superficie e soprattutto perché è molto pratico, molto comodo, soprattutto perché sono anni che lo vendiamo e tanta gente ritorna a comprarlo. Lungo il percorso pedonale del Lido, gli stand delle cipolle e aglio, componenti immancabili della fiera. Proprio per questa fiera la cipolla è una tradizione e quindi è difficile che manca. La nostra è una cipolla di cannara, penso abbastanza conosciuta qui in zona. Noi è tanti anni che veniamo qui alla fiera, veniva mio suoscero quindi da oltre 30 anni, quindi i fanessi sono abituati alla nostra cipolla, la conoscono e vengono volentieri a comprarla. La nuova location all'inizio è sembrata un po' così e così, però stamattina già sono venuti dei clienti che ci cercavano e tutti dicono che sia la migliore location, vediamo poi come va, però ci piace. La nostra cipolla tipica è la rossa di cannara, poi abbiamo la dorata e la piatta. La rossa rappresenta tutti i piatti freddi per cucinare le insalate, i fagioli, tutto ciò che può essere abbinato al pesce, tutto ciò che è freddo, mentre invece la dorata è una cipolla da cuocere, buonissima per fare la parmigiana, per fare la zuppa di cipolla e per fare la fritta. Poi abbiamo la schiacciata o anche borrettana, buonissima la grande da fare arrosto e la piccolina per fare sott'olio, sott'aceto, l'agrodolce, per fare tutte le varie tipologie di cipolle. Anche l'aglio abbiamo, aglio rosso? Aglio rosso, che è buonissimo, profumatissimo e anche peperoncino. Quest'anno è un po' indietro perché la stagione è un po' indietro, però sempre di buono spiccio avere un mazzetto di peperoncino. Quest'anno verde e rosso, una novità. Sin dalle prime ore della mattinata, tante le persone presenti tra turisti e fanesi alla ricerca delle migliori offerte e occasioni. Ho comprato una spazzola per lisciare i capelli, abbiamo comprato un rasoglio da uomo, poi abbiamo preso, cosa abbiamo preso ancora? Non mi ricordo più. La borsa, mi ha regalato una borsa il mio compagno e un profumo e basta. Tutto a buon prezzo? Tutto a buon prezzo, veramente. Che cosa acquista? Una felpa per mio figlio. Quanto l'ha pagata? 10 euro. Una spesa giusta? Ecco, per quello che è, sì, direi di sì. Ma fanno per comprare che cosa stamattina? Per ora solo delle borse, però sono di firma e valgono la pena, insomma, di fare un acquisto del genere. Tante è un buonissimo prezzo, ne ho altre che ho pagato a prezzo pieno, quindi ho fatto una scorta. Com'è questa fiera? Eh, guardi, quest'anno, visto che è cambiata, l'hanno fatta tutta, insomma, tutta una tirata, molto lunga, però secondo me è molto meglio per la viabilità, quello sì. Poi sabato ci saranno i fuochi e tutte queste cose qua, quindi sarà un bel weekend, secondo me. E ti è intorno alla fiera di San Bartolomeo, detta anche fiera delle cipolle, un'importante occasione per l'intera città. Sì, e soprattutto da quest'anno siamo partiti con la riqualificazione della fiera che quest'anno tocca gli spazi, quindi migliorata la viabilità in tutta la zona della Sassonia. La fiera parte sempre da Sassonia, ma dall'anfiteatro Rastat verso nord e quindi toccherà i parcheggi, ad esempio, del Pesce Azzurro, passerà in zona Porto per toccare quindi uno dei luoghi più suggestivi della nostra città ed arrivare in zona Lido. Quindi due chilometri, duecento espositori con la location totalmente cambiata. Abbiamo deciso di attivare questa modifica anche per andare dietro anche le necessità degli operatori economici della nostra città, ma è chiaro che pian piano vogliamo migliorare la fiera anche dal punto di vista degli operatori presenti, della proposta commerciale. È chiaro che la fiera campionaria nasce tanti anni fa e oggi ha bisogno di essere aggiornata, ha bisogno di essere modificata. Intanto siamo partiti con un bellissimo progetto qualche anno fa che è la fiera franca dei bambini che anche quest'anno ci sarà e da quest'anno, visto che non abbiamo realizzato i fuochi durante la festa del mare, ecco i fuochi avverranno sabato sera 26 agosto ore 23 dal solito molo di Ponente, quindi chi vuole può assistere al grande spettacolo pirotecnico della città sabato sera. E dal 26 agosto al 10 di settembre a Palazzo Bracci Pagani di Fano prende il via la mostra del concorso nazionale di vignette satiriche e umoristiche Carton Sea, quest'anno dedicato al tema dell'ambiente. Sono stati svelati i quattro vincitori del premio nazionale di umorismo e satira Carton Sea giunto alla tredicesima edizione. L'appuntamento dedicato ai temi dell'ambiente, della sicurezza e del lavoro ideato e promosso dall'azienda fanese Sea Group ha visto la partecipazione di 125 artisti da tutta Italia, isole comprese, per un totale di 246 elaborati di cui 30 nuovi partecipanti e 8 under 29. Titolo di questa edizione, Piano B, un altro mondo è impossibile. Gli artisti con questa traccia si sono sbizzarriti con illustrazioni dedicate a vari aspetti attuali dal riscaldamento globale, inondazioni, carestie, siccità e guerre. A vincere il Grand Prix dell'edizione 2023 è stato l'artista 39enne Urca con la sua opera Detox, seguito da Walter Leoni, Maurizio Boscarolle e Marco Ceccolini, quest'ultimo si è aggiudicato il premio speciale Origone. Quali sono le opere vincitrici e qual è il loro significato? I vincitori sono Urca, con un'opera Detox, che ci mostra un pianeta che si depura dall'azione nefasta del suo peggior nemico, cioè l'uomo. Maurizio Boscarolle rilancia il piano B inserendo Superman, che come tutti sanno viene da un pianeta distrutto, quindi per lui non si tratta più di un piano B, ma necessariamente di un piano C. Poi Walter Leoni, che ci propone un'arca di Noè spaziale, un'astronave, con tutti gli animali che espelle, anche in questo caso, gli umani dal futuro e quindi come unico modo di salvezza è eliminare l'umano. Pare che sia questo il messaggio che molti autori ci vogliono dare. In occasione di questo appuntamento, all'interno di Palazzo Bracci Pagani, in centro storico Afano, verrà allestita una mostra con alcune delle opere partecipanti, dal 26 agosto fino al 10 settembre. Sabato, infatti, alle 18.30, ci sarà la premiazione dei vincitori, seguito da un momento di spettacolo curato da Filippo Brunetti, dove si parlerà con leggerezza il dilemma dei nostri tempi, ovvero l'effetto Serra. Un concorso nazionale, quest'anno è stato un esplà perché c'è stata una partecipazione di 170-180 opere dall'estero, pur sapendo che sarebbero state fuori concorso e quindi non premiabili. E questo è un motivo di soddisfazione perché vuol dire che il nostro concorso non è più conosciuto soltanto in Italia, ma anche all'estero. Novità di quest'anno, la prima edizione del concorso dedicato agli studenti. sulle vignette che affrontano il tema della sicurezza sul lavoro. A vincere la sedicenne Giulia Imele della sezione grafica pubblicitaria del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Il tema dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e del destino del nostro pianeta sono al centro della riflessione degli artisti che attraverso le arti grafiche, quelle per l'appunto dell'umorismo della satira, provano a farci fare una riflessione sorridente ma non scontata e non banale su temi che sono di grandissima attualità. Il comune di Fano accompagna anche questa tredicesima edizione di Cartonsea proprio per il valore civile che questo appuntamento ha e per il quale ringraziamo ancora una volta la determinazione e l'impegno del gruppo SEA. Tra poco dopo il telegiornale andrà in onda una nuova puntata di In Salute. Sentiamo allora direttamente dai conduttori Michele e Tommaso chi sarà l'ospite di questa puntata. Sì, siamo pronti per questa nuovissima puntata di In Salute, per questo speciale del mese di agosto e mi chiediamo un ospite speciale. Sì, sarà una super puntata perché parleremo di meno pausa con un ospite speciale, Tommy come dicevi te, il direttore del reparto di ostetricia dell'ospedale di Pano Pesero, il dottore Claudio Ciccoli. Quindi collegatevi tutti che sarà una super puntata. Ci vediamo fra poco. Bene, questa era la nostra ultima notizia, subito dopo di noi le previsioni del tempo e appunto una nuova puntata di In Salute. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di salata.